Il mio tradizionale ben trovato al pubblico di Blog Sicilia che segue i nostri approfondimenti video su Talk Sicilia, un nuovo appuntamento di quello che è il giro di conoscenza dei deputati regionali che sono stati eletti, alcuni li conosciamo già come in questo caso, altri li stiamo cominciando a conoscere adesso, in ogni caso ci avviamo verso una nuova stagione, 5 anni di governo e la regione, di Parlamento che deve lavorare per la Sicilia, è utile, è bello conoscere le idee di ciascuno di noi. Oggi, come dicevo appunto il nostro ospite, un deputato che già conosciamo che è Vincenzo Figuccia, rieletto deputato regionale nella lista di prima l'Italia Lega, grazie per essere qui con noi Vincenzo. Buongiorno e grazie a te per l'invito. Quello che evidentemente cominciamo a discutere adesso è proprio l'avvio di questa legislatura, manca qualche giorno alla prima seduta e sarà una seduta in cui ci sarà una conoscenza dei deputati che accedono per la prima volta a Stala d'Ercole, ma soprattutto sarà il primo impatto con un equilibrio che va creato in questa nuova maggioranza. Certamente è un equilibrio che va creato e che va ritrovato attraverso la politica. L'ultima volta che ero in trasmissione, in realtà negli studi dall'altra parte, studio due, questo è studio uno, c'è stato uno dei colleghi che ha esordito dicendo perché i ritardi, la politica, in questo caso ad esempio la politica non c'entrava nulla ed è un'occasione per dirlo, perché se spesso invece si sono creati dei vuoti, se le cose spesso non sono andate per il verso giusto, questo è stato proprio perché ha prevalso l'antipolitica. Se noi oggi siamo qui a distanza di tempo senza che il governo possa essersi insediato è perché è venuto a mancare qualcosa, ovvero gli scrutinatori di un gruppo di sezioni o quelle sezioni fatte dal Presidente e degli scrutinatori in realtà hanno avuto delle inadempienze, sono andate per via dei ritardi. Si ascolta che di fatto c'è stato un ritardo di praticamente un mese nella proclamazione di tutto il Parlamento, i 70 deputati, solo un mese dopo il voto è arrivato il 25, giusto giusto, il 25 di settembre si è votato, il 25 di ottobre è arrivata l'elenco completo dei deputati eletti, questo lo ricordiamo a chi ci segue fondamentalmente. Solo che poi non passa l'idea perché è accaduto, passa l'idea che ah vedi la politica, il governo, il Presidente Fichifani, ma che c'entra il Presidente Fichifani, ma che c'entra la politica con le inadempienze di carattere bruttorocratico amministrativo, anzi c'entra esattamente l'antipolitica perché io dico una cosa provocatoria, se a questi scrutinatori li si pagasse come giusto pagarli, anziché creare una condizione di sfruttamento con qualcosa come 150 Euro per 4 giorni e 3 notti, probabilmente invece avremmo avuto una dinamica più corretta, solo che in questi anni Garomaglio ha prevasso l'antipolitica, ha prevasso chi faceva demagogia, ha prevasso chi andava contro per andare contro, la lotta agli sprechi, la lotta alla casta, questi erano dei risultati, ecco per tornare al tema io penso invece che con il Presidente Fichifani torneremo alla politica, torneremo agli equilibri, torneremo agli assetti e ci misureremo sulle cose da fare. Intanto la prima sfida sarà quella di trovare una quadratura del cerchio per poter eleggere un Presidente dell'Assemblea regionale siciliana che sia il Presidente di tutti, perché ricordiamo che quello del Presidente dell'Assemblea è un ruolo di mediazione, un ruolo che deve comunque garantire maggioranza e opposizione a tutti i partiti così via dicendo e tutte le altre figure del Parlamento senza le quali non si potrà andare poi a fare il governo alla Regione. Certamente il Presidente dell'Assemblea, detto bene, è garanzia non soltanto della coalizione al governo, è garanzia non soltanto della maggioranza ma è garanzia dell'intero assetto parlamentare, quindi non può che essere espressione della politica. Questa parola che per anni è stata travestita quasi con un carattere negativo, è stata additata come qualcosa di brutto per carità perché ci sono state testimonianze spesso negative, ha invece un suo contraltare che è fatto delle cose buone, dei risultati e penso che anche nel caso dell'elezione del Presidente dell'Assemblea si arriverà ad una soluzione che è il risultato della politica. Quindi i partiti della coalizione di governo si riuniranno o comunque daranno delle indicazioni sulla base, perché no? Anche lì il Manuele Cencelli che ha memoria democristiana sa che è uno strumento della politica. Il strumento molto utilizzato nella divisione poi dei compiti e degli incarichi in funzione, questo è sempre avvantaggio di chi ci segue, in funzione di quello che è stato il risultato elettorale e l'espressione quindi del popolare. Per cui c'è un partito che ha espresso il Presidente della Regione, che ha vinto, un altro partito che esprimerà un altro dei ruoli apicali all'interno dell'Assemblea regionale e così via via a scendere quindi con la posizione degli uomini che andranno al governo, per cui a Forza Italia spetteranno un numero di assessori, a Fratelli Italia un numero di assessori, alla Lega come gli altri partiti in proporzione spetteranno un numero di assessori e così completando il quadro con l'ADC e con gli autonomisti di Raffaele Lombardo. Quindi devo essere sincero, non mi aspetto delle sorprese eclatanti, attribuisco questi ritardi purtroppo alla dimensione burocratica con le sue distonie che si sono viste rappresentate e penso che invece adesso che c'è stata la proclamazione rispetteremo tutti i tempi per fare le cose. Il giorno 10 ci insediamo e il giorno 10 novembre la Sicilia avrà finalmente l'insediamento della carica più alta del Parlamento regionale. Questo servirà immediatamente dopo ad istituire l'ufficio di presidenza perché ci sono due vice di presidenza, una di maggioranza di opposizione, un ufficio dei questori. che dice che al presidente si affianca due vicepresidenti, uno della maggioranza e uno dell'opposizione, come un donno istituzionale. Poi ci sono tre deputati questori, anche quelli vanno divisi tra ma uno è dell'opposizione, e deputati segretari e così via dicendo tutte poi che bisognerà formare le commissioni che però non si farà il giorno 10 probabilmente sarà la presidenza. Nei giorni immediatamente. Però per la prima volta succede, si applica una legge che non c'era invece fino alla volta precedente che riguarda la costituzione della giunta, perché la giunta di governo, questa volta gli assessori devono giurare davanti al Parlamento, non basterà il decreto del presidente della regione di nomina come avveniva fino alla decisatura precedente. Sì, questa è una norma che è scaturita anche lì da una maggioranza, perché sono le assemblee che definiscono poi gli assetti, in questo caso di natura ordinamentale legati alla struttura del Parlamento regionale, questo prevede la legge e questo dovrà attendere il presidente della regione per essere operativo insieme al Parlamento regionale. Mi sembra però di capire che il presidente Schifani abbia già da subito preso in pugno la situazione di queste ore, ad esempio la notizia per cui nascerà questa tough force, si è sempre parlato di questo rischio, anzi più che di questo rischio di questa incombenza assolutamente intollerabile per cui noi perdiamo le risorse comunitari, questo nella contingenza del post-covid con tutto quello che è accaduto in termini di utilizzo di risorse più note ai cittadini come risorse del PNRR, ovviamente è una circostanza che non possiamo più far ripetere. Per questo il presidente della regione ha riunito i vertici della burocrazia regionale e sta dando vita a questa tough force che sarà una cosa importante per non perdere le risorse comunitarie che serviranno a fare tante cose, questo lasciatemi dire è un indicatore importante del cambio di passo e del modo in cui Schifani vuole dare avvio a questa nuova legge. Ti faccio un'ultima domanda di natura politica, prettamente politica, perché poi io lo dico sempre, la politica non è una cosa distante dai cittadini, perché la politica è quella che poi determina le scelte che hanno refluenza sulla vita di tutti i giorni, per cui la politica è una cosa che ha un senso e una sua importanza. Ti faccio un'ultima domanda di natura politica, poi andiamo alle priorità di quello che deve fare questo Parlamento, dovrà fare questo governo appena insediato. E la domanda è la seguente, cioè circola già una lista di probabili assessori e Vincenzo Figuccia è nell'elenco di questi probabili assessori. Non lo sapevo. No, dai, non ci crediamo nessuno, non ci credo io e non ci crede nemmeno il pubblico che ci sta seguendo. Ma chi te l'ha detto? E questo? No, va bene. Sarei ovviamente onorato di poter dare un contributo ad una causa nella quale credo. Chi si candida a ruoli di natura elettiva ovviamente non può che ambire quando sei maggioranza ad avere ruoli di governo. Questo però, e lo dico perché non ci possano essere ipocrisia. Solo chi si veste di un abito di ipocrisia può dire di non voler fare l'assessore. È chiaro che però le scelte non le fa il diretto interessato, come è giusto che sia, in una democrazia dove all'interno di un partito ci si confronta e si fanno le scelte dall'alto, con la condivisione della base, di quali possono essere gli uomini non migliori, gli uomini che possono avere una vocazione ad espletare un determinato mandato. Il nostro è un piccolo gruppo, quindi devo dire che in questo caso non sarà mortificata l'attitudine di nessuno, perché nei piccoli gruppi in questo caso uno farà il capogruppo, uno farà il presidente di commissione, uno, due faranno gli assessori, c'è l'ufficio di presidenza, quindi ci sarà veramente modo per consegnare a ciascuno dei parlamentari della Lega la possibilità di esprimere al meglio la propria vocazione, la propria attitudine con una finalità principale, che è quella, come dicevi tu, di mettere mano alle priorità e di fare le cose, perché questa è una terra che purtroppo di annunci e di proclami, di slogan ne ha visti tanti e che adesso ha grandi aspettative. Ha grandi aspettative tra l'altro nei confronti di una coalizione che governa a livello nazionale, che è la stessa coalizione che ha traghettato a Palermo alla fase del post Orlando e mi sembra di poter dire che la galla oggettivamente si incominciano a vedere i risultati di un buon lavoro messo in campo, per cui ecco le aspettative alte sono abbastanza corroborate da un assetto istituzionale che in effetti ci vede già al governo della città e praticamente al governo del Paese. Diciamolo, il gruppo della Lega, la Senata regionale siciliana, è composto da cinque deputati eletti, questi cinque deputati, come diceva Vincenzo Figuccio, probabilmente hanno ciascuno un incarico, un ruolo da ricoprire e da svolgere, dovrebbero toccare, secondo quelle che sono le notizie che circolano fino a questo momento, due assessori alla Lega per quelli che sono gli equilibri all'interno della coalizione di centro-destra, probabilmente uno alla Sicilia occidentale, uno alla Sicilia orientale, queste sono le notizie che abbiamo scritto più volte, che raccontiamo evidentemente anche in questa occasione quando parliamo di queste cose, ma entriamo adesso nel merito delle urgenze, delle emergenze, delle cose da fare. Il Presidente della Regione Schifani ha cominciato evidentemente la sua opera, ma è naturale che senza un Parlamento insediato non può cominciare a lavorare su quelle che sono le attività proprio parlamentari. Secondo il tuo punto di vista, Vincenzo Figuccio, quale sarebbe la prima legge da portare in discussione, a prescindere dal bilancio che naturalmente è una cosa che va fatta immediatamente, anche perché l'anno sta finendo, probabilmente si sarà costretti a ricorrere all'esercizio provvisorio, visti i tempi che sono passati dalle elezioni e visto che non c'è ancora un Parlamento, ma a prescindere dal bilancio che è una cosa automatica che bisogna fare, qual è, secondo Vincenzo Figuccio, la prima cosa importante da fare per la Sicilia e per i siciliani? Ma è inutile girarci attorno, credo che la parola chiave debba essere rappresentata dal termine lavoro. Oggi in Sicilia purtroppo tanti ragazzi costretti ad andare via, tanti altri costretti invece a confrontarsi con questa dimensione in maniera, lasciatemi dire, tante volte anche mortificante, perché vedete, percepire il reddito è certamente una opportunità in un Paese che, se si considera degno di essere chiamato tale, non deve mai immaginare di lasciare indietro i più deboli, però chiaramente la forma di sostegno sotto forma di sussidio deve essere, come dire, equiparata dall'altra parte alla possibilità di mettere in campo strumenti di inclusione di tipo lavorativo. Quindi credo che la grande priorità oggi in questa nostra terra sia il lavoro, sia quella di poter dare spendibilità a percorsi di giovani e diciamoci la verità anche di meno giovani, perché persone che over 40, over 50 si ritrovano a perdere un'occasione di lavoro, si trovano veramente in grandi difficoltà per garantire loro un reinserimento. Devo dire che ci sono già in cantiere una serie di misure che riguardano la riforma del mercato del lavoro, tra questi alcuni provvedimenti che sono già in cantiere, alcuni avvisi sono stati già fatti, alcune delibere della precedente giunta sono state già emanate, una serie di determini dirigenziali stanno già dando corpo a questa visione. Una per citarne è quella del progetto Goal, che è un progetto che così come evoca la palla messa in rete, porta all'idea che siciliani che si trovino in una condizione di percepire strumenti o ammortizzatori come la NAFTI o come il reddito di cittadinanza, possano essere al centro di un percorso che garantisca loro un'inclusione attraverso il lavoro. Il lavoro si può arrivare attraverso il lavoro autonomo, attraverso cui si può arrivare coinvolgendo delle aziende che possano avere degli sgravi fiscali, il lavoro insomma che come recita l'articolo della Costituzione dovrebbe essere garantito a tutti in un paese come il nostro. C'è un grande tema che è quello dei centri per l'impiego, centri per l'impiego che hanno sicuramente bisogno di essere rafforzati perché non sono riusciti a svolgere il loro compito, è inutile che ci nascondiamo dietro a un dito, è così che è andata le cose. Centri per l'impiego per i quali c'è un concorso, centri per l'impiego per i quali c'è oggi, proprio in queste ore, il tema della mancata proroga dei navigator con la Sicilia che invece chiede al Ministero di poter utilizzare queste 280 figure anche all'esterno di quello che è il percorso reddito e cittadinanza di supporto ai centri per l'impiego. Questo è un esempio di come è importante che ci sia un accordo tra il livello regionale e quello nazionale. Fino a questo momento chiaramente la Sicilia purtroppo viene da una fase antecedente in cui questi due mondi non dialogavano perché noi avevamo un governo nazionale che andava in una direzione e un governo regionale che come sappiamo di centrodestra andava in una direzione che era quella auspicabile, che era quella che si può immaginare quando si vuol mettere in campo una dimensione produttiva di un'economia sostenibile. Oggi finalmente questi due mondi potranno dialogare e quindi credo che questa sia stata una delle ultime occasioni in cui ci ritroviamo di fronte ad un caso del genere. Io penso che il centro per l'impiego non solo debba essere potenziato ma contestualmente va anche supportato attraverso una serie di azioni, penso ad esempio alle agenzie per il lavoro, le cosiddette APL, che avranno un ruolo fondamentale nel profilare i soggetti che accedono ai servizi per una forma di bilancio di competenze, per una sorta di orientamento, in modo che queste persone una volta passate dal centro per l'impiego possano poi rivolgersi ad agenzie specializzate che abbiano questa non vocazione, questo mandato, questa missione statutaria e che ricevono anche delle risorse in questo caso alla regione siciliana, proprio per creare, per provare ad eliminare quel gap che c'è, quel gap che c'è tra il mondo del lavoro che sembrano arrivare mai e tutto quello che ci sta prima, che non solo è formazione, scuola, università, ma sono spesso dei progetti lunghissimi, di vero e proprio vuoto, a cui sono costretti, dicevo prima, giovani e meno giovani da una condizione di un'economia asfittica. Giovani che addirittura hanno portato in questi ormai quasi decennio a parlare dei famosi MIT, giovani che non studiano, che non lavorano, che sono in quella facilità tra i 18 e i 35 anni, che non hanno mai avuto la possibilità, non perché non volevano, ma perché non sono stati messi nelle condizioni di poter fare un percorso di spendibilità all'interno di aziende, di vettori più disparati, che in una terra come la nostra possono andare dal turismo, all'agricoltura, all'e-commerce, all'economia digitale. Quindi tornando alla domanda, il lavoro certamente sarà una delle grandi priorità di questo Ne repongo un altro tema, anche perché il tempo che a nostra esposizione è tiranno non ce ne resta molto, dal lavoro che bisogna creare, al lavoro che si rischia di perdere, perché noi viviamo oggi in Sicilia, forse più che altrove, ma non soltanto in Sicilia, un tema come quello del caro energia in generale, che rischia di mettere in ginocchio tante aziende, piccole e medie aziende, e quindi di creare ulteriori problemi al lavoro che si può perdere. Proprio a ridosso dell'appuntamento elettorale, che sappiamo ha visto portare alle urne i cittadini dell'intero stivale, perché con questa election day siamo andati a rinnovare il Parlamento regionale, ma il governo nazionale, proprio a ridosso di quella giornata, ricordo quando il nostro segretario nazionale Matteo Salvini venne a Palermo e decise di fare meno passarelle, di stare lontano anche dai comizi, per incontrare invece dei commercianti, titolari di panifici, di ristoranti, di bar, aziende tutte che oggi si trovano a rischio concreto di chiusura, molte in realtà hanno già chiuso, perché si sono ritrovati, hanno visto triplicare i costi delle loro utenze, i costi delle loro bollette. Questo ovviamente è inaccettabile, inaccettabile in un sistema dove è chiaro, c'è una speculazione fortissima da parte degli antigestori, i quali si stanno arricchiendo, stanno incominciando, devo dire, anche a muoversi studi legali importanti che hanno deciso di stare vicini al consumatore, ai propri diritti, e con un occhio alle imprese, ma con l'altro devo dire anche al mondo delle famiglie, perché anche quelle hanno grande difficoltà, hanno avviato questo percorso. La politica cosa deve fare? La politica deve stare vicino a questo mondo e io immagino ad esempio all'investimento di risorse immediate e che vadano in qualche modo a dare sostegno al livello di altissima sofferenza alla quale sono state esposte imprese da una parte e famiglie all'altra, per poter dare un contributo in modo che in qualche modo si possa allaggerire questo peso, un po' come è stato nella fase del Covid, ricordi in cui alle imprese sono stati dati dei sostegni in funzione della sovraesposizione alla quale si erano ritrovate perché non lavoravano, perché erano state costrette a rimanere chiuse, in questo caso credo che il governo regionale, ma mi sembra che già anche da parte del governo nazionale, stiano arrivando segnali per andare in questa direzione, si possano mettere in campo misure che possano in qualche modo gravare i siciliani da questo peso davvero enorme. Bene, il tempo è praticamente finito, avremmo voluto parlare anche di rifiuti, di come smaltirli e di tanti altri argomenti, di riforma delle province, torneremo all'elezione diretta e questo lo faremo non soltanto per i rappresentanti della politica che sono antenne sensibili nel territorio, ma lo faremo per il sistema della viabilità, perché ricordiamoci che alle province è domandato il ruolo sulla mobilità, sulle scuole, sulle politiche assistenziali in favore dei minori disabili. Ci sono tante cose da fare, ma torneremo a parlarne. Sicuramente avremo occasione di parlarne ancora altre volte, grazie a Vincenzo Figuccia che è stato con noi per questi 24 minuti, grazie anche a voi che ci avete seguito in questo nuovo appuntamento, vi rinnovo sempre l'appuntamento per il prossimo Talk Sicilia. Arrivederci!